Durante i lavori di allargamento dell'asse centrale del polo commerciale di Modica, un escavatore ha tranciato questa mattina, inavvertitamente, un tubo di metano dell'alta pressione. L'episodio ha creato subito l'allarme con l'intervento immediato dei vicini del fuoco e delle forze dell'ordine, oltre agli operatori della società del gas. Obiettivo mettere in sicurezza l'intera area, evitando problematiche peggiori. Fortissimi rallentamenti al traffico veicolare della zona, con ovvintasamenti in tutte le arterie limitrofe e professionisti al lavoro per riparare la tubatura e mettere in sicurezza definitivamente l'area. Il flusso del gas fuoriuscito, infatti, si è innalzato per oltre 30 metri. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e operatori sono ancora impegnati sia nella gestione del traffico veicolare, sia in tutte le altre azioni necessarie.